Allora, io oggi pomeriggio per 1-0-0 avrei firmato subito, subito, perché 1-0-0 è il risultato che ti permette di andare lì e giocartela, andare a Milano e giocartela poi calcolando che il Milan ultimamente stava, non so quello, pum pum, stava a sfarta tutti, segnava ogni partita, stavano a far macello questi, noi che stavamo con le pezze perché sono tutti rotti, poi sono ritornati ma stavano tutti al 50%, nessuno era ritornato veramente, quindi 1-0-0 ci avrei firmato proprio, adesso dopo la partita diciamo un po' merode perché comunque sì lo 0-0 rimane un buon risultato perché te la vai giocare, però ecco vincere la 1-0 era un po' diciamo era decisamente meglio, poi ragazzi diciamo ma noi partiamo dal presupposto che il Milan non ha giocato, cioè non è proprio sceso in campo il Milan, proprio non si è manco visto, cioè hanno regalato talmente tanti dei palloni che io non lo so, noi se siamo manati, cioè non si può, non riusciamo a concretizzare le azioni, ma che se siamo manati, veramente immobile, non ne parliamo, veramente è sparito immobile, io non so più dov'è il mitico Ciro, non segna più, non fa più niente, oggi ha fatto abbastanza pena, Corea ha giocchiato, però Corea sta sempre a casca, ma che è? lo tocchi boom, se butta, non te butta, mi ha mandato un fastidio, che a un certo punto sei proprio tuffato, una cosa che non serviva a niente se avessi passato la palla un attimo prima, invece no, se voluto butta, veramente microbo, appena lo tocchi casca subito, quindi cioè se giochi così comunque abbiamo dominato, perché abbiamo dominato, però se tu non mi segni, cioè non riusciamo a mandare la palla, non riusciamo a farla entrare a sta palla, ma che bisogna fare? che bisogna fare? Io boh, veramente, poi hanno giocato tutti bene, pure Patrick e Basso se sono mezzi, se sono drogati oggi che hanno giocato bene, Patrick ovviamente se fa una gretinata, se ha fatto un fallo è entrato come è matto, io boh, cioè se non doveva, Patrick deve per forza fa San Monì, per forza, se no non è contento, Acerbi ragazzi è un leone, è un leone, Piontek non ha visto una palla, cioè Acerbi è fantastico, è fantastico, è proprio forte, ha giocato benissimo oggi, benissimo, calcolando che stava in mezzo a Patrick e Bastos, eh? Già, ricordiamolo, perché ne è affare da poco, quindi niente, cioè adesso, comunque c'hai due mesi, sì due mesi perché giochiamo aprile, beh, cercate di arrivare con una squadra, insomma, che se so, recuperate abbastanza tutti, Cioè, se arriviamo con tutti i rotti è proprio sfiga, però, comunque, ecco, niente, è un po' merote perché dovevamo, dobbiamo, cioè, siamo una squadra di imbecilli, cioè, dobbiamo concretizzare le stazioni, noi giochiamo bene, serve a niente giocare bene, perché poi quelli che abbassano la palla è calla, io ero sicura che, ero sicura che, guarda, comunque si appora a Piontek che gli arriva una palla è calla, perché è sempre così, è sempre così, tu vuoi giocare bene quanto ti pare, ma se la partita torna a 90 minuti, Se tu non la butti dentro, puoi fare pure 20.000 tiri e quelli ne fanno uno, però se ne fanno uno che entra, eh, puoi pure dire abbiamo giocato bene, però non è che nessuno ti ha rubato la partita, nessuno ti ha fatto niente, quindi tocca che segni, mo devi andare a Milano e non devi perde, eh, pare facile, pare facile andare a Milano e non perde, comunque, eh, alla fine è un risultato che è buono, perché non aver preso gol in casa è buono, quindi niente, ragazzi, alla fine si può fare, si può fare come risultato, La partita è assolutamente aperta e speriamo bene, spero bene, incrociamo le dita e ci vediamo tra due mesi praticamente, quindi niente ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace, lasciate qui un commento, ditemi cosa ne pensate voi di questa partita e noi ci vediamo domani con la live reaction, bella!